La mostra Radical City affronta il tema della città come spazio di sperimentazione delle teorie espresse dall'architettura radicale italiana attiva dal 63 al 73, con Archizum, Superstudio, UFO, Gianni Pettena, Ugo Lapietra, Pietro De Rossi, Strum, 9999, Zigurat. L'esposizione è suddivisa in quattro aree tematiche, il contesto, la teoria, la piazza, la discoteca. L'occupazione delle fabbriche e dell'università, la rivoluzione del costume e quella sessuale e la crisi politica sono temi affrontati allora e di forte richiamo anche oggi. Radical City è visitabile dal 30 maggio al 30 giugno all'Archivio di Stato di Torino. È curata da Emanuele Piccardo ed è la produzione più importante della Fondazione Ordine Architetti al Festival Architettura in Città. La mostra cerca di raccontare questa evoluzione in questi dieci anni, dal 1963 al 1973, che è il periodo in cui un manipolo di architetti a Firenze, Torino e Milano hanno cercato di utilizzare le istanze provenienti dalla società, le lotte operaie studentesche, per trasformarle in progetti di architettura. Sicuramente i temi veicolati dalla mostra, che sono il contesto, la piazza, la teoria e la discoteca, per certi aspetti sono ancora oggi attuali, perché la crisi della didattica nelle facoltà universitarie, il rapporto tra operai e padroni, il ritorno della piazza come luogo di espressione del conflitto politico, basta pensare alla primavera araba, fanno sì che dopo quasi 50 anni l'architettura radicale sia ancora attuale. Grazie a tutti!